Bene, allora domani c'è un'altra gara in calendario nel pomeriggio del primo maggio si tratta di una gara a carattere non competitivo che si corre a Serra Riccò ora, non mi avventuro nel nome della gara perché altrimenti so che sicuramente i Liguri mi prenderebbero in giro e verrei additato come colui che non sa leggere un nome nel dialetto locale quindi me lo farò dire prossimamente da qualcuno della zona, magari da Luisa stessa che sicuramente adesso sta ascoltando Gara pomeridiana, carattere non competitivo, si corre sulla distanza dei 9 km, forse qualcosa meno è un percorso abbastanza impegnativo sull'alta via, mi scrive Luisa che è percorso sull'alta via completamente nel verde, panoramico e molto importante al ristoro focaccette preparate dalla parrocchia ora, quando si tratta di focaccette immagino che tanti drizzino le orecchie perché c'è sempre parecchia attenzione da parte del popolo podistico amatoriale sull'aspetto del terzo tempo la partenza è alle ore 17 il ritrovo è in piazza Risso a Valle Regge di Serra Riccò e niente, ci sono 7 euro di iscrizione per gli adulti e 5 per i bambini un percorso un po' più breve sulla distanza dei 12 km sto leggendo, chiaramente il volantino non era preparato, avevo poco tempo e quindi la tecnologia è sicuramente utile per preparare un qualcosa di rapido guardando quello che è successo l'anno scorso è successo che il primo maggio dell'anno scorso è stata una giornata terribile una pioggia abbattente che ha condizionato la gara l'anno scorso si erano completamente disfatti i volantini i cartellini per preparare la classifica però sono riusciti comunque a metterci una pezza Luisa, Meirana, gruppo organizzatore della zona comunque si sono fatti voler bene, nessuno si è lamentato l'anno scorso vinse Alessio Bartali che fine ha fatto Alessio Bartali non lo sappiamo ha corso per un periodo, poi ha ricominciato ad andare in bici magari è andato in Polonia che ogni tanto è frequentatore di quelle zone però è un po' che non lo si vede l'anno scorso si è visto per un periodo e in quel periodo è andato davvero forte tra le donne vinse Laila Francesca che ultimamente la vedo abbastanza agguerrita è entrata anche da poco alle gare ha corso domenica scorsa alla Quaramille e chissà che magari domani non torni per bissare la vittoria 80 i partecipanti, 70, 80 nella scorsa edizione ci furono le foto di Rosa Maria e di Gilberto Cosso scusa, di Gilberto Pesce e Maria Rosa Cosso bene, niente, se avete voglia di correre nel pomeriggio avete questa possibilità Serrico, partenza ore 17 buon divertimento a tutti